Io mi chiamo Laura. Ludovica, mi chiamo Ludovica. Ciao, mi chiami Lenia. 23. Studio lingue e letteratura straniere. Diciamo la mia idea iniziale quando mi sono iscritta è quella di partecipare, soprattutto di far parte del mondo dello spettacolo, soprattutto per quanto riguarda il mondo cinematografico, in quantità di traduttore. Dopo la Lara mi piacerebbe tanto intraprendere un master di traduzione, in cui appunto vorrei specializzarmi in spagnolo. Ho scelto il suo Rorsola perché è un'università dove abbiamo la possibilità di studiare in aule piccole, quindi siamo più seguiti. Oppure magari il mio sogno nel cassetto sarebbe entrare a lavorare in un'ambasciata, sempre come traduttrice. Sì, anche perché in ogni cosa che ci insegnano la prima cosa è la passione. Io spero che il passaggio dall'università al mondo del lavoro non sarà duro. E vi faccio i migliori auguri perché sia così. Grazie. 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 Grazie.